Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di Podcast Cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Silodato Gesù Cristo Il Sesto Comandamento ci proibisce di commettere atti impuri. Sesto Comandamento non commettere atti impuri. Al tempo del patriarca Noè, gli uomini erano diventati così infedeli al Signore che Dio quasi si pentì di averli creati. La misura dei loro peccati, specialmente dei peccati impuri, provocò dalla giustizia divina un terribile castigo, il diluvio universale. Si appersero le cateratte del cielo e per quaranta giorni e quaranta notti piove impetuosamente. Le acque raggiunsero le cime dei monti e sommersero nei loro abissi tutti gli esseri viventi. Soltanto Noè, che era buono, la sua famiglia e gli animali che erano con lui nell'arca scamparono all'universale naufragio. Anche oggi i peccati impuri attirano sulla terra i più grandi castighi di Dio. Chi conserva l'innocenza dell'anima è sicuro di andare in paradiso. La virtù della purezza, la quale proibisce ogni sguardo cattivo, ogni parola e ogni atto poco modesto, assomiglia l'uomo agli angeli e lo avvicina sempre più a Dio. Un fanciulo beneducato non osa commettere azioni indecenti davanti ai suoi genitori. Come oserà allora commetterle davanti al Signore che vede sempre e dappertutto, anche quando si è soli? Allora, cari bambini, vorrei darvi una regola molto pratica che vi aiuterà a praticare la virtù della purezza, a evitare tutto quello che possa infangare la vostra anima. La regola è questa. Non nascondere mai nulla ai vostri genitori. Se io faccio qualcosa ma ho vergogna di dire alla mia mamma o al mio padre perché siate sicuri che quello che faccio è peccato e nella maggior parte dei casi è peccato contro la purezza perché se c'è una cosa che provoca la vergogna nei bambini che ancora sono innocenti è proprio i peccati contro la purezza. E allora, se c'è qualcosa che io voglio nascondere ai miei genitori vuol dire che questo è un atto brutto, è una azione che va contro la legge di Dio perché vedete, il peccato è sempre qualcosa che si fa di nascosto. Il peccato sono le tenebre, le tenebre è come la notte. Il ladro preferisce rubare di notte perché così nessuno lo vede. Quindi durante la notte lui fa le azioni cattive a mezzogiorno, a mezzogiorno quando tutti vedono, quando tutti sanno allora lui non ha tanta voglia di rapinare anche se questo può anche succedere ma le azioni cattive si fanno nel nascosto. Allora, se io ho qualcosa da nascondere ai miei genitori allora sicuro che questo è un peccato. Dunque, voi cercate sempre di essere molto chiari molto sinceri con i vostri genitori e quindi quello che accade alla scuola raccontate ai vostri genitori. Voi andate a fare una passeggiata con i vostri amici poi quando tornate a casa la mamma chiede com'è andata allora raccontate com'è stato. Se c'è qualcosa da nascondere vuol dire che quella passeggiata non è andata bene ma soprattutto quando ho vergogna di dire al confessore, al sacerdote perché questo accade anche che qualcuno va a confessarsi e racconta un peccato, un altro peccato ma c'è un peccato di cui ha vergogna e non vuole dire e non lo dice e allora fa un peccato perché quando nella confessione noi di proposito nascondiamo qualcosa che non va bene quello è un peccato nascondere peccati nella confessione e fare e aggiungere un peccato in più ai nostri peccati quindi sono andato con tre peccati e sono tornato con quattro peccati e la confessione non è stata fatta bene Dio non mi ha perdonato i miei peccati perché io di proposito ho nascosto qualcosa di cui avevo vergogna quindi per vivere secondo il sesto comandamento la prima regola è non nascondere nulla ai miei genitori e alla prossima volta parleremo di altre regole per poter vivere bene questo grande comandamento che da una parte proibisce atti impuri ma dall'altra parte ci sprona a vivere la virtù della purezza la virtù dell'innocenza che è la virtù angelica per eccellenza chiediamo alla Madonna la grazia di vivere secondo la purezza la Madonna è la semprevergine è l'immacolata chiediamo a lei questa grazia questa virtù angelica se l'ho dato Gesù Cristo oggi c'è Radio Roma Libera punto org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org grazie a tutti grazie a tutti